ciao amici di fantapaz oggi siamo qui con il terzo appuntamento per l'analisi fantacalcistica calcistica in ottica mercato delle 20 squadre di serie a terza squadra dopo sasverona sassuolo che naturalmente vi invito a vedere se non l'avete già fatto nel canale andiamo con il torino in realtà sul torino c'è da dire passo subito la l'analisi tattica perché poi andiamo a vedere l'analisi delle fantacalcistica quindi delle medie voto di questa stagione eccola qui questo è il torino come sta giocando con un vlasic è un 3 5 2 in realtà con si potrebbe anche sistemare qui ricci e ilice linetti o ricci un vlasic trequartista anche se spesso vlasic magari con sanabia che arretra un po ridivente il 3 4 2 1 in cui sanabia fa un po appunto il trequartista però ci sono stati anche momenti è un po camaleontico diciamo il torino da quando ha cambiato da quando ha fatto fuori yuri ci ha fatto praticamente fuori radonici anche se nell'ultima partita lo ha rimesso in campo caramona non dà garanzie e quindi ha cominciato a sperimentare cosa che tra l'altro all'inizio disse di non voler fare cioè di mettere due punte però zavata sta giocando bene sanabia si sta adattando comunque discretamente insomma per il suo livello come come seconda punta è una scuola in realtà abbastanza bloccata nel senso che non ci vedo molti margini di mercato perché comunque sanabia zapata stanno andando bene se dovesse andar via radonici forse potrebbe arrivare un trequartista perché comunque lì a parte vlasic o viene adattato qualcuno viene avanzato il ciò si gioca un 3 5 2 veramente classico ricci lici e linetti e c'è caramò appunto che altre caratteristiche e appunto radonici comunque non sembra essere più nelle grazie di juri chiaramente dovesse cambiare questa situazione potrebbe anche essere modificata un radonici che viene utilizzato spesso potrebbe giurare al posto di vlasic ma soprattutto al posto di sanabria dietro zapata chiaramente sempre conservando la forma fisica di zapata comunque negli ultimi anni è stato sempre soggetto di un fuori ad infortuni a sinistra abbiamo abbiamo voi voda o lazzaro a destra bellanova poi andiamo a vedere nel dettaglio i le le medie voto ilic linetti e ricci sono i tre centrocampisti centrali che si sono i due posti ormai thames è stato piazzato come come sternode come centrale destro anche se ovviamente il suo fantarolo è centrocampista almeno per quest'anno poi doveste continuare a giocare così probabilmente l'anno prossimo lo cambieremo insomma questo è abbastanza evidente non c'è sciurso fino a fine stagione un bello buongiorno e rodriguez stanno andando bene è scesa un po la la considerazione per sazzonov lo stesso gg che si è fatto male comunque è tornato all'infortunio sembra essere dietro appunto atta mese quindi sono squadre una squadra abbastanza bloccata nel senso che i titolari più o meno sono quelli e sinceramente non mi aspetto troppo dal mercato come detto appunto se per caso radoni ci dovesse andare via potrebbe arrivare qualcuno però non vedo tanti margini di di manovra non penso che arriverà un centrale penso che si andrà avanti così appunto mantenendo gg mantenendo zima sazzonov questi giocatori che comunque hanno hanno dato poco effettivamente però non mi aspetto che comunque la situazione possa cambiare da quel punto di vista centrocampo abbastanza bloccato quindi non so se magari possa arrivare comunque un giocatore offensivo che sia una una seconda punta un trequartista o un ala che si guarda da trequartista però mi aspetto poco in questo caso dal torino perché appunto i giocatori quelli sono e sarà difficile non penso che a meno che qualcuno appunto non non vada via per una super offerta magari per ilic o per qualcun altro non penso buongiorno che comunque è già stata rifiutata a genna ad agosto l'offerta dell'atalanta quindi effettivamente ci sono pochi margini di manovra la squadra è questa ci andiamo a vedere adesso le statistiche di questa stagione così facciamo un'analisi completa eccola qui la l'analisi sul torino milinkovic non ha una media voto in realtà scintillante però otto clean sheet che sono veramente tanti insomma praticamente uno ogni due partite e quindi questo è positivo però è vero che milinkovic ogni tanto commette qualche errore insomma come ho forse detto spesso non è un portiere che mi fa impazzire però gli va dato atto e comunque il torino sta sta difendendo bene appunto gli otto clean sheet sono sono parecchi sono tantissimi per una squadra comunque che appunto scilla tra la parte sinistra e la parte destra della classifica insomma tra il nono e l'undicesimo posto dodicesimo posto ha sempre oscillato durante questa stagione ha forse l'obiettivo di arrivare non a decima che comunque sarebbe un buon discreto risultato per il torino però insomma milinkovic dal punto di vista dei gol subiti e comunque dei clean sheet sta andando bene la media voto potrebbe essere meglio ma appunto questa è macchiata da da qualche partita negativa in cui in cui ha fatto male in difesa chiaramente buongiorno è l'unico è la vera certezza assoluta non consideriamo Gigi che ha giocato pochissimo devo dire anche Lazzaro non ha fatto malissimo forse nell'idea generale ha fatto male però appunto vediamo la media voto è comunque positiva lo stesso Belanova che comunque mi mettevo in guardia quest'estate e comunque solo due assist la media voto appunto sotto il 6 non è non è assolutamente un giocatore negati che si può dire che ha fatto negativo perché comunque la media voto è praticamente quasi 6 quasi sufficiente però insomma era molto considerato e fosse eccessivamente considerato quest'estate il suo livello è quello magari farà arriverà a 4 5 assist durante la fine fine a fine stagione potrebbe anche oscillare attorno alla sufficienza magari anche superarla però insomma non ha quei picchi che dei grandi dei grandi esterni terzini che comunque abbiamo visto che ci sono comunque in serie a meno bene Rodriguez meno bene anche voi voda che comunque sta giocando anche lui molto spesso anche al posto di Lazzaro si alternano spesso i due e loro stanno facendo comunque male però sono abbastanza bloccati nelle gerchie di di Juric appunto Rodriguez è titolare fisso voi voda se la gioca spesso con Lazzaro anche superandolo ogni tanto ma a livello fantacalcistico in effetti non apportano molto né a livello di assist di bonus né a livello di voti centrocampo ovviamente la stella e ilic sia per qualche rete qualche assist ma appunto anche per la media voto vediamo tamese anche lui sta giocando centrale non sta facendo male sta facendo comunque bene nella media insomma niente di clamoroso poi vediamo appunto Linetti anche lui sta giocando bene sta giocando bene sta facendo prestazioni comunque sufficienti anche con un rendimento abbastanza continuo quindi diciamo Linetti è il classico giocatore da sta facendo molto meglio rispetto a Ricci per esempio classico giocatore da da mettere lì come settimo ottavo slot perché comunque gioca quasi sempre quando non gioca entra tranne quando ovviamente sta male e sì qualche ammunizione ma insomma il suo lo porta sempre a casa meno invece meno bene Vlasic che sta riprendendo però era partito veramente male ultimamente si sta riprendendo non tanto ieri contro l'udinese non tanto l'ultima partita contro l'udinese ma ma comunque è in crescita però appunto è è insufficiente e questo è una particolare da di cui tenere conto radon c'è realtà quando ha giocato ha fatto discretamente ha fatto comunque quella quella doppietta con la serenitana quelle due partite consecutive straordinarie poi appunto un po' qualche partita la sbagliata un po' è finito fuori da per le note vicende con Juric l'attacco invece si basa soprattutto su Zapata come dicevamo prima Sanabria ha fatto qualcosa anche un gol dal dischetto però non non è non è in realtà è il vero Sanabria forse forse non era il vero Sanabria nello scorso durante questa stagione durante quest'annata più che altro che aveva fatto dopo il mondiale aveva fatto tantissime reti da gennaio a giugno probabilmente non in linea con la sua carriera e quindi la sua che la sua carriera è più questa disegnare ogni tanto disegnare devo dire fa anche un gran lavoro assieme a Zapata quindi non è più lui il perno centrale quindi anche questo lo penalizza dal punto di vista delle realizzazioni Zapata non ha una media voto pazzesca però insomma sta diventando diciamo una certezza per quanto lo possa essere un giocatore comunque è sempre a rischio infortuni però mi aspetto che Zapata se non avrà infortuni possa arrivare tranquillamente e anche oltre la doppia cifra questa è la penso che sia l'obiettivo per cui è stato acquistato è l'obiettivo comunque raggiungibile perché comunque Zapata in passato è arrivato tranquillamente oltre la doppia cifra queste sono le considerazioni sul Torino come vedete rispetto a Verone e Sassuolo secondo me c'è c'è meno da fare dal punto di vista del mercato ci sono più gerarchie consolidate però appunto l'obiettivo è come detto appunto il nono decimo posto probabilmente raggiungibile perché se togliamo forse il Monza considerando appunto Bologna ormai su e le sette squadre che partecipano alle competizioni europee più naturalmente la Juventus praticamente sicure del del posto e quindi ci sono due posti vacanti nella parte sinistra della classifica e scusate mettendo anche il Bologna c'è solo un posto per le per la parte sinistra della classifica e quel posto lì è un posto a cui possono ambire forse con maggiori possibilità Torino e Monza forse difficilmente l'altra vediamo se anche magari Lecce e Frosinone avranno la forza di continuare su quel livello lì se si riprenderà lo stesso Sassuolo di cui parlavamo nello scorso video però insomma questo naturalmente ne parleremo anche più avanti nei prossimi video io vi ringrazio di aver visto il video e ci vediamo alla prossima prossimo appuntamento ciao